Musica Tante volte l'apertura di Viverlucenze è oggi una puntata speciale, bene, oggi è veramente speciale. Siamo in compagnia del sindaco di Capandoli, Luca Menedrini, alla festa dell'aria. Festa dell'aria che caratterizza il comune di Capandoli veramente da tantissimi anni e che ormai da diverso tempo è dedicata alle mongolfiere. Non ci sono più gli eventi all'aeroporto di Tassignano quando venivano le frecce tricolori, quando c'erano i biplani che volavano, quando la festa per i bambini di Capandoli era all'aeroporto di Tassignano. Oggi la festa si è spostata nel parco, dietro nel municipio e con Luca Menedrini decolliamo per vedere il vento dove ci porta oggi. Luca Menedrini che ha un'esperienza con le mongolfiere che ha sposato questo che a tutti gli effetti è uno sport. Sì è uno sport ma soprattutto diventa anche un simbolo di Capandoli, quest'anno è l'anno del bicentenario, sono 12 le mongolfiere che sono presenti, quindi è sempre molto bello quando in queste mattine di settembre ci si sveglia, ci si affaccia alla finestra e si vedono nel cielo di Capandoli le mongolfiere, nel cielo di tutta la piana perché poi il volo è un volo che va da Capandoli a Luca, al Padula. A seconda dei venti infatti e quindi oggi per ora stiamo andando in direzione Padule. Posti bellissimi per noi, soprattutto la sensazione di volare in silenzio, la stessa sensazione che si ha quando si parla in qualche maniera di green, quando si parla in qualche maniera di ambiente e contatto con la natura, credo che niente voli con proiezione verso questo tipo di concetto come una mongolfiera. Grazie a tutti. Adesso tutte le mongolfiere che sono in volo, hanno preso più o meno la stessa corrente, stiamo attraversando l'ex alveo del Sextum, da qui passava il nostro vecchio fiume ma soprattutto era la nostra palude e siamo ancora con il sindaco a parlare del bicentenario del comune di Capandoli, il comune rurale più grande d'Italia per tantissimi anni, adesso la vocazione chiaramente sta cambiando, facciamo parte per tanti ettari anche del settore cartario più importante d'Europa, quindi stiamo cambiando ma dentro alla fine siamo sempre gli stessi e il comune di Capandoli vuole celebrare questo bicentenario in una maniera molto particolare, lo farà puntando sul senso di comunità. Sì, proprio così, intanto una parola sul comune rurale più grande d'Italia, da qua si apprezza, si percepisce appunto la quantità di terreni coltivabili, la ricchezza dell'acqua, si vede quanto appunto queste zone siano verdi e quanto siano ordinate e ben coltivate, insomma quindi anche se oggi non è più la ruralità di un tempo però si percepisce questo e sicuramente valorizza quello che è l'ambiente. Vicentenario di Capannori, sì, una grande occasione per riflettere sulle nostre origini, sulla nostra identità ma anche proiettarsi al futuro e quindi è una tappa, una tappa intermedia e il senso dello stare insieme, il senso di comunità è quello che faremo nella riflessione che ci porterà il professor Massimo Recalcati che sarà proprio il 24 pomeriggio, il 24 pomeriggio, la domenica e quest'anno è di domenica quindi è perfetto da questo punto di vista, è la festa del bicentenario all'anniversario perché sono 200 anni che è stato fatto il decreto costitutivo del comune di Capannori da Maria Luisa di Borbone e quindi quel giorno alle 3 e mezza nel centro di Capannori una conferenza con Recalcati e poi dopo veniamo in piazza del comune dove ci sarà un intervento del sottoscritto, l'intervento è presente della regione toscana ma sveleremo l'inno di Capannori, abbiamo fatto un concorso che ha visto partecipare diversi artisti, diversi gruppi e è stato veramente molto bello dal quale tramite una commissione di esperti ne ha scaturito l'inno di Capannori che è molto bello e quindi c'è un'attesa anche per conoscerlo, nello specifico quello che ha vinto è stato fatto da un gruppo molto nutrito di musicisti che suonano, che cantano e il testo è stato scritto da una ragazza molto giovane questo a significare cosa poi? A significare che quelli che sono i valori, quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio stanno entrando molto tra la cittadinanza, quindi un inno che canta anche questi aspetti e che è molto bello mi sento qui di ringraziare veramente tutti quelli che hanno partecipato a questo concorso poi alla fine vince sempre uno, però è stato appunto un bel lavoro di elaborazione, testi molto interessanti e quindi ecco stiamo anche riflettendo su come non disperdere questo lavoro che da tanti è stato fatto Abbiamo accennato al tema dei valori, il mese di settembre per Capannori diventa fondamentale anche per le celebrazioni perché avete scelto di cominciare da quest'anno a celebrare la liberazione del comune di Capannori dal 5 di settembre stiamo parlando naturalmente della liberazione dal dominio nazifascista, siamo alla fine della seconda guerra mondiale in questo senso avete anche scelto dove celebrare per la prima volta questa ricorrenza che è l'ex casa del fascio nel centro di Capannori che oggi fortunatamente è una scuola che accoglie tanti bambini Sì, proprio così, intanto va detto che qua si ammira la grandezza di Capannori, la sua estensione la liberazione di Capannori è cominciata nel compitese il primo di settembre, è finita a Petroniano San Gennaro tra il 9 e il 10 di settembre ma il 5 settembre è il giorno clou, il giorno nel quale viene dichiarata completamente libera Capannori tutta la zona del comune, la zona centrale del comune allo stesso tempo viene nominato il primo sindaco di Capannori dopo il ventennio come si dice quindi il primo sindaco espressione di forze democratiche e quindi abbiamo voluto celebrare questo momento con una lapide una lapide che resta a perenne memoria di questi fatti, di questi eventi di chi ha caratterizzato, il primo sindaco è stato Giulio Mandoli e quindi anche di chi alla fine si è impegnato, si è impegnato durante la resistenza e ha permesso e ha contribuito e permesso la liberazione del nostro comune quindi è un ricordo anche dei vivi, di chi ha scritto quella storia ma anche di chi ha scritto quella storia perdendo la propria vita e questo è un lavoro molto lungo che è stato fatto nel tempo, via della memoria dove abbiamo tracciato tutto il territorio comunale con i diversi luoghi dove sono stati commessi i reati, dove sono avvenute uccisioni dove sono avvenuti fatti importanti Tra l'altro il 1943 è 80 anni fa, ieri era l'anniversario dell'8 settembre del 43 e domani 10 settembre è l'anniversario della chiusura del campo di concentramento di Castelvecchio di Compito ma più che la chiusura appunto della strage che vide i militari tedeschi uccidere i soldati italiani che erano a sorveglianza di quel campo di concentramento e che proteggendo i prigionieri appunto chiamarono i tedeschi dentro la baracca li intrattennero e nel frattempo tutti i prigionieri scapparono e a quel punto i tedeschi non fecero altro che uccidere appunto chi era a sorveglianza di quel campo e chi appunto secondo loro si era comportato male quindi è un ricordo anche di queste persone un ricordo non fine a se stesso ma appunto per ricordarci quello che è stato quel periodo e allo stesso tempo anche quali valori e quali principi sono scaturiti da quel periodo che quindi ci sono consegnati dalle precedenti generazioni da quei sacrifici e quindi una logica anche di manutenzione della democrazia il valore della democrazia è ovviamente un valore che è dato a noi perché appunto questi principi e questi valori siano portati avanti Credo che possiamo chiudere parlando del fatto che siamo a un punto di vista privilegiato per capire veramente l'estensione del territorio di Capannori si va dalle antenne del Monte Serra con tutto il compitese, ruota, tutte le frazioni che insistono sui Monti Pisani poi il territorio scende e va a stringersi verso Tassignano e verso la frazione di Capannori poi si riallarga, abbiamo Marlia e abbiamo dall'altra parte le Pizzorne con tutti i paesi Valgiano, Sant'Andrea e Caprile non li nomino tutti ma con tutte le altre frazioni dall'altro lato quanto è difficile far diventare omogeneo un territorio che poi alla fine omogeneo non è e dove dovete comunque intervenire ogni giorno in ogni posto con la sua prerogativa di necessità Beh è molto complesso noi si dice che Capannori è una comunità diffusa infatti è così sono 40 frazioni, sono 40 paesi ognuno con le proprie caratteristiche che si va dai mille metri delle Pizzorne e del Serra fino ad arrivare alla zona pianeggiante quindi anche quando ci sono dei fenomeni abbastanza estremi passiamo da frane a zone alluvionate è complesso però anche molto bello e ha ovviamente caratteristiche che sono caratteristiche comune sia in quello che è il modo di vivere la solidarietà, l'attenzione, l'intraprendenza dei cittadini sia anche su quelli che sono i prodotti anche della terra stessa insomma siamo nelle colline che fanno un eccellente vino un ottimo olio e tanti altri tipi diciamo di coltivazione oltre ad avere ormai un settore produttivo, industriale, artigianale di tutto rispetto e da qui ne percepiamo anche l'impatto da qua sopra si vede la grande estensione delle aziende cartarie e non solo la vita della Piana di Lucca è ruotata sempre intorno all'acqua e lo è stato per l'agricoltura addirittura se arrivava ad avere due raccolti l'anno era una delle poche zone a livello nazionale che aveva due stagioni di raccolta l'anno e allo stesso tempo oggi anche per l'industrializzazione l'acqua dà un contributo importante tutto credevo tranne che un atterraggio sulla Mongolfiera fosse così morbido perché oggettivamente praticamente ci siamo appoggiati su un campo tagliato quando il pilota mi dice di scendere perché sono una discreta zavorra scendo e raggiungo Abramo in attesa anche di Luca grazie a tutti grazie a tutti siamo in compagnia di Michele Torlo io potrei definirlo se dovessi raccontare a qualche amico un artista del volo perché il volo al Mongolfiera è molto più complicato di quello che uno si può aspettare da sotto l'idea da sotto è si dà gas, si sale, si toglie, si scende invece c'è tutta questa questione dei voli c'è il momento del gonfiaggio e poi anche l'atterraggio che mi diceva Luca Menesini che è già un esperto in questo senso è fondamentale farlo in una certa maniera per recuperare il pallone anche più velocemente certo, sì innanzitutto l'atterraggio è anche lì un fattore importante perché bisogna guardarsi un po' intorno perché a volte capitano dei campi che non sono accessibili magari sono ricintati ci sono i cancelli quindi bisogna nella fase di atterraggio cercharsi sempre un campo dove c'è l'accessibilità del menzo diciamo oltre a essere libero per non creare danni al condadino quando si parla di volo si parla di correnti perché ad ogni quota ad ogni altezza ci può essere un vento diverso e voi riuscite a pilotare sfruttando queste correnti sì noi diciamo in linea di massima noi decidiamo la quota appunto in base alla quota troviamo un tipo di corrente e ci spostiamo perché diciamo il motore è il vento il motore è il timone è il vento dove va il vento lì va la mongolfiera noi in effetti sappiamo da dove decolliamo ma non sappiamo poi mai dove atterriamo quindi questo è poi bello della mongolfiera e allora ringraziamo Michele ringraziamo anche Luca Menesini che ci ha permesso di fare questa bellissima esperienza era la prima volta sia per me che per Abramo che più o meno abbiamo volato con più cose adesso io vado a valutare le condizioni di Abramo che si è divertito come un bambino e intanto vi saluto e vi lascio agli altri appuntamenti di Viver Lucenze Benvenuti alla seconda parte di Viver Lucenze abbiamo appena lasciato le molgonfiere di Capandori e ci siamo adesso recati nel centro di Alto Pascio io mi trovo in piazza ospitalieri a due passi da Sala Peregrinazio dove è stata aperta una mostra importante che sarà visitabile fino al 20 di ottobre ma per conoscerla più da vicino andiamo a chiedere informazioni al primo cittadino di Alto Pascio Sara D'Ambrosio proprio all'entrata della mostra in Sala Peregrinazio incontriamo il sindaco di Alto Pascio Sara D'Ambrosio un'importante mostra in un luogo altrettanto evocativo di importante esatto è detto bene per noi questa è diciamo la prima vera mostra che esponiamo qui in Sala Peregrinazio è stata per noi un'occasione d'oro perché avere opere di Banksy e di tutti gli artisti Not Banksy è stata veramente un'occasione importante non ce la siamo fatta sfuggire con Alessio Minicozzi l'assessore alla cultura abbiamo fatto insomma un lavoro che per ora sta dando dei buoni risultati con tante persone che partecipano che vengono a vedere la mostra che ha un periodo molto lungo per essere visitata da fine luglio a fine ottobre quindi un periodo di ampio respiro questa è una sala di nuova ristrutturazione ha vissuto momenti più o meno fasti e quindi oggi vederla così tutta allestita ma poi con opere di questa importanza per noi è un grande orgoglio siamo nel centro storico di Alto Pascio in un luogo caro anche ai pellegrini come dice il nome della sala e in effetti che cosa accadeva se vogliamo fare un salto nel passato Sara Alto Pascio è un luogo dell'ospitalità e noi in tutto quello che facciamo cerchiamo di ripercorrere questa ospitalità qui i pellegrini dopo un percorso lungo trovavano ristoro e ecco questo messaggio lo vogliamo declinare anche in epoca moderna come si fa? lo si fa in tanti modi lo si fa anche rendendo queste piazze luoghi accoglienti luoghi ospitali chiaramente modificandone la declinazione del passato in un occhio che guarda al futuro e questa davvero possiamo dire che è una una mostra che guarda all'oggi ma guarda al futuro perché si tratta di opere veramente contemporanee e anche un po' diverse rispetto al panorama che di solito siamo abituati a visitare sto raggiungendo il cuore della mostra in sala pergrinazio e qui ad attendermi c'è Alessio Minicozzi che è l'assessore alle politiche culturali del comune di Alto Passo buongiorno Alessio qui dietro di noi c'è un'opera importante che fa capire proprio anche il titolo della mostra di che opera si tratta? si tratta di Napalm ed è un'opera di Banksy e la mostra è Banksy or not Banksy abbiamo scelto di giocare sull'identità di Banksy che è uno dei tratti più peculiari dell'esperienza artistica di forse uno dei più famosi artisti al mondo forse il più famoso artista al mondo tra gli artisti contemporanei nessuno sa chi sia Banksy o perlomeno qualche d'uno in realtà dice di saperlo e tra questi c'è il curatore della mostra che è Bruno Ialuna e insieme a lui insieme alla cooperativa mare abbiamo scelto di portare in sala peregrinazio queste opere tra le opere l'opera regina è quella appunto che sta alle mie spalle Napalm è un'opera potentissima perché racconta di una vicenda che è quella della guerra in Vietnam della devastazione portata alla guerra con una critica anche nei confronti del sistema capitalistico quindi anche con una dimensione politica molto forte è questo quello che fa l'arte urbana arte urbana che non è un'arte che nasce oggi o che è nata con Banksy al contrario sempre come dice il curatore della mostra l'arte urbana nasce nelle grotte nasce nelle grotte di Lescaux quindi accompagna l'uomo dall'inizio ha una funzione pedagogica e questo tratto ci è piaciuto fin dall'inizio ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di allestire questa mostra in sala peregrinazio prima hai detto che nella mostra sono presenti sia opere dell'autore sia opere che non riguardano direttamente l'autore ma diciamo differenti come quella che vediamo adesso di che cosa si tratta? si tratta di omaggio a Topo Fiorentino di Bloob ed hai detto bene ci sono opere che non sono di Banksy ma sono gli artisti che hanno ispirato Banksy o che si sono ispirati a lui Bloob l'abbiamo visto in molti contesti forse non ci si fa troppo caso però anche a Firenze così come a Lucca per un periodo soprattutto sui casottini dell'Enel c'erano rappresentati questi topi perché il topo perché il topo viene dal mondo underground quindi viene dal sottoterra è il reietto è il simbolo di qualcosa che è rifiutato così come gli street artists nascono in un contesto che non è quello di una sala museale ma della strada e quindi del graffitismo del writing nel contesto delle periferie delle città del nord Europa in particolare di Bristol perché portarlo allora in una sala chiusa perché crediamo lo stesso di rispettare gli artisti di rispettarne la funzione tutte queste opere non sono state sradicate rispetto a De Muri assolutamente provengono da collezioni private ci sono state donate e noi temporaneamente le mostriamo alla cittadinanza in un'altra veste le opere in mostra sono davvero tante e tutte da visitare noi oggi vogliamo l'occasione di farvene conoscere solamente alcune come questa che è l'ultima opera che vi presentiamo di che cosa si tratta Alessio? si tratta di Wake Up è un'opera di Maupal nome d'arte di Mauro Pallotta uno degli street artists più famosi al mondo anche noto come lo street artist del Papa da quando fece il super pop a Roma e fu apprezzata particolarmente dal pontefice e tra l'altro con Maupal abbiamo sviluppato e stabilito un rapporto particolare e personale perché quest'opera ce l'ha portata lui di persona ed è allenata una splendida amicizia uno splendido rapporto che speriamo possa proseguire su Alto Pascio in quest'opera è rappresentata una critica nei confronti del mondo contemporaneo in particolare della dimensione tecnologica perché Wake Up è il richiamo che viene fatto nei confronti del gatto che non sa più quale topo quale mouse sia reale e quale finto tra il mouse del computer e il mouse il topo quindi il topolino fisico quindi di nuovo il topo che ritorna e qui viene portato in una nuova dimensione in una critica nei confronti dell'uomo moderno con questa opera e con le molte altre che vi aspettano qui in sala per Grinazio vicino al centro del comune di Alto Pascio proprio in piazza Spitalieri noi ringraziamo nuovamente Alessio Minicozzi l'assessorato alla cultura di Alto Pascio ma anche Sara D'Ambrosio che ha aperto questa parte della puntata di Viverlucenze che è iniziata stamattina volteggiando per i cieli di Capandori ma poi Giulio del Fiorentino con Abramo Rossi e il sindaco Luca Menezini il sindaco di Capandori sono atterrati proprio ad Alto Pascio non potevamo quindi che concludere proprio qui nel cuore della splendida città medievale e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Viverlucenze Grazie a tutti Grazie a tutti.